Era il 16 luglio 1944 quando esattamente alle 20.30 dalla voce di Radio Londra arrivò l'annuncio. Arezzo è stata liberata dai partigiani della 23esima brigata Garibaldina Pio Borri. Dalla torre del palazzo comunale sventolava il tricolore per le vie della città i carri armati degli alleati. Un giorno di rinascita ma con ancora nel cuore le ferite della devastazione e della guerra aperte. Nei giorni immediatamente precedenti al 16 luglio il territorio comunale così come quello provinciale visse dei momenti di ferocia ed orrore senza pari. Oggi a 78 anni di distanza Arezzo celebra la sua liberazione dalle truppe nazifasciste. Ricordiamo i caduti, ricordiamo che si è impegnato per darci la libertà. È una giornata importante, siamo stati stamattina al cimitero del Commonwealth. Anche questi ragazzi giovani degli alleati caduti sono da ricordare ma come avete sentito io ho voluto ricordare alcuni dei nostri partigiani. Sono persone che o sono cadute nel corso dei combattimenti oppure sono sopravvissute ma purtroppo ci stanno tutte lasciando per limiti d'età. Accanto alle cerimonie ufficiali di commemorazione in programma in piazza Sant'Agostino la mostra fotografica Eio erossando can sguardi partigiani. È una mostra del 2011 realizzata da Nasi che ha voluto ritrarre i partigiani nella loro diciamo maturità ricordando contemporaneamente uno per uno a che età hanno combattuto. È veramente impressionante. Erano ragazzi giovanissimi, io sono un insegnante, avrebbero potuto essere benissimo tutti i miei alunni, 17, 18, 19 anni e hanno fatto cose enormi. A chiudere la giornata il concerto della Casa del Vento sempre in Piazza Sant'Agostino.